Allora, Manuela Trozzola, è arrivato un altro successo quest'anno, credo che sia un anno irripetibile. Sì, ci siamo impegnate molto durante la stagione, i sacrifici ripagano. Abbiamo vinto Scudetto nel 19, Scudetto nel 17 e ora siamo saliti in Serie A2. Meglio di così non chiedevamo. Senti, è stata una stagione molto, molto faticosa, perché praticamente è d'agosto che state sudando. Una sintesi? Me la puoi fare? Qual è il momento più bello? Il momento più bello ovviamente era la vittoria di Scudetto nel 19, che ovviamente eravamo l'unica squadra sotto età, quindi da una parte non ce l'aspettavamo, abbiamo beccato Costa in finale e l'abbiamo giocata anche contro di loro. Senti, tu siete un po' a campo basso, è un ambiente particolare? Sì, è un ambiente particolare ma... In positivo? Sì, sì, in positivo, la società è come una famiglia, viviamo tutti insieme, facciamo scuola insieme, quindi siamo sempre insieme come una grande famiglia. L'ultima cosa, mettiamola un po' anche sul nostalgico, tra qualche mese molte di voi penso che per limiti d'età dovranno abbandonare determinate squadre, dispiace chiaramente? Sì, dispiace, infatti l'ultima rimessa stavamo tutte con le lacrime, durante l'ultimo time out è stato bello fare l'ultimo time out così, poi purtroppo le strade non sempre possono andare fino alla fine insieme, purtroppo si separano.